Unisco anche quest'anno la mia voce a quella dei promotori della maratona Teleton. Mi auguro che anche quest'anno, anche in questa occasione natalizia in modo particolare, non manchino contributi, risposte generose. Ce ne sono state anche nel 2012, nonostante le difficoltà economiche. Sono venute dai cittadini e dalle imprese risorse ingenti, ancora una volta, per alimentare la ricerca, volta a debellare le malattie genetiche. E devo dire che la parola d'ordine che è stata scelta per questa campagna, per questa maratona, Io esisto, è davvero molto bella. Significa che non dobbiamo dimenticarci che esistono persone affette da queste temibili malattie genetiche, non dobbiamo dimenticarci quanto sia penosa la loro esistenza, quanto sia necessario un impegno collettivo delle istituzioni, della società, dei cittadini italiani, per sollevarli dalle angosce in cui si dibattono. E in modo particolare, poi, dobbiamo sapere che tra quanti ci ricordano il loro dramma, dicendo Io esisto, ci sono moltissimi bambini, la cui esistenza ci è particolarmente cara e la cui necessità di aiuto non può lasciarci indifferenti. E quindi faccia ciascuno quello che può nell'ambito delle proprie possibilità, secondo i propri mezzi, ma nessuno si sottragga a questo appello per una causa così nobile, così giusta, così umana.